Un altro traguardo tagliato. Sono 4.508.100 le dosi di vaccino anti-covid somministrate sino al 25 luglio in Puglia. Il dato aggiornato alle ore 17 di domenica dal report del Governo nazionale corrisponde al 96% delle dosi consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza che sono 4.695.447. La nostra regione è al quarto posto in Italia per capacità vaccinale alle spalle di Lombardia, Marche e Abruzzo. Tra il 24 e il 25 luglio sono state effettuate 22.751 inoculazioni. I numeri, testimoniano una buona risposta dei pugliesi alla campagna vaccinale, sono destinati a crescere notevolmente visto il raddoppio delle prenotazioni con un aumento percentuale del 131,87%. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al Presidente Draghi e al Ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green Pass. Per rispondere all'impennata di prenotazioni si cercano almeno 200 operatori sanitari in tutta la Puglia. L'obiettivo è uno, tenere aperti tutti i 94 hub vaccinali della Regione anche ad agosto. Entrando nel dettaglio dei territori nella giornata di sabato, negli hub della Asle di Bari sono state iniettate 1.621 prime dosi e 5.802 seconde, con numeri importanti nei diversi centri. Oltre 1.100 iniezioni sia in Firea che a Bitonto. Viaggiano tra 6 e 700 somministrazioni i centri vaccinali di Alberobello, Mola, Trigiano, Putignano e Monopoli. Nel complesso la campagna ha sinora garantito oltre 1.486.000 vaccinazioni tra prime e seconde dosi, con una copertura vaccinale attestata sul 76% della popolazione vaccinabile, che ha già ricevuto almeno una dose e il 57% completamente immunizzata. Si registra un incremento costante anche rispetto alle fasce di età più giovani. Il 62% dei residenti di Bari e provincia tra i 12 e i 49 anni ha fatto la prima dose. Il 37% ha completato il ciclo. In provincia di Foggia, dall'avvio della campagna vaccinale, sono oltre 666.000 le somministrazioni effettuate. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino, quasi il 64% della popolazione. È invece concluso il ciclo vaccinale il 45,8% della popolazione.